Siamo sposati da dieci anni, come tutti gli eroi tuoi riassente. Vivevo aspettando il tuo ritorno. E tu non una parola, non uno sguardo. Mia zia dice che chi non sa fare l'amore fa la guerra. Ho lasciato le bambine da mia zia. Ora posso fare qualunque cosa con te, dirti tutto quello che non ti ho mai detto. Mia pietra paziente. Da quando lui è immobile su quel letto, e ho iniziato a raccontargli tutto, mi sento liberata. Ferma! Che lavoro fai? Vendo il mio corpo, per il piacere degli uomini. Hai fatto bene a dire così, altrimenti ti avrebbe violentata. Quanto vuoi? No, no, io non sono una prostituta. Cosa mi succede? Sono posseduta. Dov'è il Corano? Questo ragazzo non è come te. Si lascia guidare da me nell'amore. Pensavo fosse impossibile per una donna. Ma ora con te niente è impossibile. Mia pietra paziente.